Si sta verificando sull'E45 una situazione sul viadotto pericolante, una situazione di traffico selvaggio perché c'è un continuo passaggio di autotreni, autoarticolati, anche autobus Gran Turismo con persone a bordo. Transito selvaggio sul viadotto Puleto lungo l'E45 sotto sequestro per rischio collasso. Per questo il Comitato E45.2 ha presentato un esposto in Procura ad Arezzo per chiedere di indagare per attentato alla sicurezza dei trasporti. Riteniamo che chi passa sopra questi viadotti pericolanti e sotto sequestro, il Puleto ad esempio, con questi autotreni, avendo una patente professionale, non fa solo una trasgressione ma secondo noi poi sarà la Procura a valutare e integra anche un reato, fa un reato che è quello di attentato alla sicurezza dei trasporti perché mette a rischio la propria incolumità e quella degli altri che passano in quel momento ma col suo passaggio contribuisce a deteriorare una struttura già ammalorata e quindi mette a rischio anche chi passerà dopo di lui. Per le condizioni del viadotto Puleto la Procura di Arezzo ha iscritto nel registro degli indagati cinque tra dirigenti e funzionari ANAS, l'accusa è quella di omessa manutenzione. Adesso spetterà l'esperto incaricato dal Tribunale di Arezzo il professor Claudio Modena a fotografare le condizioni dell'infrastruttura e stabilire se ci sono criticità e dunque un rischio crollo oppure no. A conclusione della perizia ANAS potrà poi riprendere i lavori per andare così verso la totale riapertura del viadotto. Al momento l'unica viabilità alternativa è la vecchia Tiberina Trebis che però è chiusa da oltre 20 anni e ridotta ormai ad una mulattiera. Lì l'unico modo per intervenire e far finire questa situazione è uno solo cioè dichiarare lo stato di emergenza intervenire sulla vecchia statale ripristinandola in fretta per il traffico complessivo quindi sia leggero che pesante e intanto si proceda a lavorare sui viadotti. Questo è quello che noi chiediamo perché per noi la sicurezza della gente viene prima di tutto.